A Teramo sono iniziati i lavori all'Istituto Superiore Alessandrini Marino. L'intervento prevede in particolare la riqualificazione degli spazi esterni, azione messa a punto dall'amministrazione provinciale cui fanno capo la struttura e le sue pertinenze. Rientrano il rifacimento della pavimentazione in asfalto e la sistemazione della segnaletica orizzontale. La spesa è calcolata in 196 mila euro e i lavori dovrebbero essere conclusi entro la ripresa delle attività didattiche prevista per il 13 settembre. Una riqualificazione generale non solo del manto di asfalto dei parcheggi ma anche dei giardini. Poi partiranno non solo in questa scuola ma in tutte le scuole della provincia gli interventi di manutenzione straordinaria per evitare le infiltrazioni di acqua che ci sono, per ricostruire quelle parti ammalorate che da decenni aspettano gli interventi. Stiamo riqualificando e dando una nuova offerta a livello di istituto, a livello di edifici e quindi anche formativa ai nostri alunni che sono il futuro della provincia. I lavori avviati in fase di avvio rientrano nel quadro delle numerose opere programmate sugli edifici scolastici provinciali e sugli spazi esterni di pertinenza. Si tratta di lavori di notevole portata per gli studenti e le studentesse già finanziati e che vedranno la luce nei prossimi mesi. Mentre per quanto riguarda la scuola oramai chiusa da diversi anni a causa del terremoto, l'ex scuola Marino? Su questa scuola presenteremo tra non molto un grande progetto di polo scolastico, campus scolastico, che sarà un polo all'avanguardia a livello nazionale, che ospiterà non solo la parte didattica ma tantissime altre discipline che potranno dare ai ragazzi la possibilità di frequentare la scuola anche nelle ore pomeridiane e serali.